Siete una cosa indegna, siete una cosa letteralmente indegna. Napoli 0, Atalanta 3, faccio i complimenti agli avversari perché gente come Pasalic, Scamacca, Kupmeiners e Lukman entrati dopo a grande qualità, l'Atalanta è una squadra che ha delle qualità che a me piacciono tantissimo. Oggi non giocava il signor Kupmeiners dal primo minuto, non giocava il signor Lukman dal primo minuto e siamo riusciti a prenderne tre, questo per farvi capire quanto facciamo ridere in difesa ma poi non si può nemmeno dare tutta la colpa di difesa se non segni, se non sfrutti un'occasione, se non giochi a pallone come si deve. Ragazzi siamo, io veramente, quando è l'ultima giornata? Il 26 maggio, lì farò un video con la bottiglia di spumante che stapperemo perché siete di un imbarazzo totale, siete di un imbarazzo totale. Tiri sconnessi, tirate da ogni posizione, buttate fuori, sembra che non ve ne freghi proprio nulla. Ossiman, una partita a fare la lotta, totalmente lì, non si capisce veramente nulla in questa squadra. L'unica cosa che si vede, l'unica cosa che si vede è che per l'ennesima volta qualche singolo si fa vedere, si fa vedere lo vodka, oggi molto molto bene Meret perché oggi senza Meret, senza le parate di Meret oggi non so quanto finiva questa partita. Come è stato bravo anche il portiere dall'altra parte perché Carnesecchi, ragazzi, fa una prestazione impressionante oggi e siamo tutti d'accordo. Ma il modo in cui questo Napoli affronta le partite, ragazzi, è imbarazzante. Addio Champions oggi. Addio Champions, cosa che io avevo già, diciamo, calcolato perché io non ci ho mai quest'anno creduto veramente ad entrare in Champions. Se parecci con Torino e Cagliari dopo anche a vincere oggi, io non ci avrei comunque creduto, ma oggi hai la prova definitiva che tu in Champions non ci devi andare, prendi tre gol in casa davanti alla tua gente, davanti ai tuoi tifosi che giustamente criticano, che giustamente ti criticano perché tu non è accettabile che torni dalla pausa nazionale e ti poni in questo modo con questa anche arroganza a giocare le partite. perché vedere gente che si butta per terra, gente che non prende i falli, prendi il primo gol con Rachmani che va per terra per una spintarella e poi pretendi, si fermano tutti perché pretendi il fallo. Ragazzi, ma dove stiamo? Ma dove stiamo? Questi giocano a pallone, questi giocano con la grinta, in sette su ogni palla. Guarda, 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 guarda. Anche il 4 a 0 a momenti, anche il 4 a 0 a momenti. Questi giocano con la grinta, ti vengono ad attaccare, hanno la grinta, hanno voglia di segnare, ma dove state? Dove state? Io veramente, io veramente, io, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Io inizio a credere, inizio a credere, voi non abbiate nessun tipo proprio di amor proprio a 0. Avete deciso che quest'anno deve andare così, che quest'anno non cambierete mai nulla, non cambierete mai nulla. Bisogna solo aspettare quella benedetta data di fine di sto campionato e poi mi rivolgo al presidente, svegliati, svegliati, riforma questa squadra, non lo so, tutto c'è da capire, qua c'è da ripartire dai nuovi, però qui nemmeno da Di Lorenzo sarebbe da ripartire, solo perché è il capitano, perché lui è qualcun altro, lui, Lobotka, ma da due o tre persone tu puoi ripartire dentro questa squadra. Di Lorenzo, Lobotka e Quagatschelia, da queste forse si può ripartire, il resto è un imbarazzo, il resto è un imbarazzo totale. Vendete Osymane il prima possibile, non lo voglio più vedere, vendetelo, vendetelo, io non voglio più vedere in campo quello là, non lo voglio più vedere. Zielinski oggi entra bene, prende un pallone, non è entrato male, ma dopo partite dove abbiamo visto un Zielinski vergognoso. Ragazzi, oggi l'Atalanta merita, l'Atalanta alle occasioni che ha le butta dentro, le sfrutta, l'Inström pure, non si capisce, entra, ci prova, lo vedi sempre, pare sempre il ritardo su quella palla, sempre l'ultimo tocco, rimanga, sempre il tocco, sempre l'ultimo tocco. E ripeto, l'Inström è un calciatore da cui io la prossima stagione spero si possa ripartire, perché lui, secondo me è un ragazzo con delle qualità. Ragazzi, quest'anno è una stagione totalmente da buttare, da buttare. Cioè, che partita hai fatto oggi? Davanti a 60.000 tifosi, davanti alle persone che ti vengono a vedere. Te non dimostri mai un po' d'amor proprio, mai che si vede quella cosa che puoi rimontare la partita. Tu vai 1-0 sotto e prendi il secondo. Finisce così, finisce così. Napoli 0-Atalanta 0. Io mi vergogno, io mi vergogno, guardate, mi vergogno. Io mi vergogno, io mi vergogno.